Io lavoro in L'Aquila da 2020, settembre. Sto lavorando, studiando nei laboratori nazionali del Gran Sato in L'Aquila. Io studio la fisica, la fisica fondamentale. Io sono molto onorato di essere stato scelto questo ruolo, Giovin Signore. Questo ruolo è molto importante perché è di un evento perdonanza. Questa perdonanza è una cosa religione, ma quest'anno sono un po' diverso perché la perdonanza sta scelta nella lista UNESCO, quindi diventa un simbolo della pace, della solidarietà e di riconciliazione. Ma io so una cosa che forse i miei colleghi non sanno. Hai una passione sfrenata per i pasticcini, è vero? Sì, sì, sì. E che tutti i giorni li porti al lavoro? Non è tutti i giorni, ho... Sì, sì, perché io sono molto contento, lavoro qui, con le persone qua nei laboratori. Io sono molto contento. Il tuo futuro dove sarà, lo sai? Dopo l'acqua io tornerò in Cina per un periodo, non so, forse un anno. E poi io spero di tornare qua, in l'acqua, di nuovo, perché io sono molto... mi piace molto questa città.